Benvenuti, ecco di fronte a voi potete leggere il tema della lezione di oggi, Tasso e la crisi del rinascimento. La crisi del rinascimento, di questo grande movimento culturale che cambia la cultura europea, non soltanto italiana, è qualcosa che si situa storicamente verso la fine del Cinquecento, però in realtà comincia abbastanza prima. Convenzionalmente si fa risalire come causa determinante di effetti culturali che avranno anche una grande espressione poetica ma la cui base non è più la fiducia nell'uomo che era stata in qualche maniera sviluppata dalla filosofia rinascimentale, dicevo l'avvenimento che convenzionalmente produce una virata, una virata storica e quindi anche culturale, è il sacco di Roma, il sacco di Roma che avvenne nel 1527 e fu opera delle milizie lanzichenecche, fu un avvenimento terribile per l'impatto che ebbe sulla coscienza dei contemporanei, non era mai successo da secoli che Roma fosse violata in quella maniera e addirittura che truppe protestanti che erano state scelte apposta da Carlo V in un certo senso mettessero a sacco la capitale del cattolicesimo. Questo avvenimento che è un avvenimento storico, come dicevo traumatico, crea la coscienza negli intellettuali del tempo che forse fra l'immagine filosofica del rinascimento italiano e il suo incarnarsi infatti della vita reale c'è un oiato, c'è una differenza piuttosto cospicua e che per dirla in termini filosofici forse più moderni l'ideale non si era incarnato nel reale. Di questo periodo abbastanza convulso ma ricchissimo dal punto di vista poetico e anche ricco di innovazioni poetiche, Tasso è per definizione il grande poeta. Il Tasso è un poeta di origine meridionale, era di Sorrento, che poi farà gran parte della sua vita, trascorrerà gran parte della sua vita presso la corte degli Estensi, è il terzo grande poeta che fiorisce alla corte di Ferrara, ricordate, il primo era stato il Boiardo, poi era venuto l'Ariosto e ora abbiamo il Tasso, ma dai tempi di Boiardo e di Ariosto veramente molta acqua è passata sotto i punti e le cose sono estremamente cambiate. Due parole sulla vita del Tasso che fu piuttosto infelice, come si dice nei trattati di psicologia, decisiva fu per l'intonazione, per l'impostazione di questa vita, l'infelicissima infanzia. Il Tasso si trovò a perdere la madre, nel senso che dovete fuggire con il padre piccolino e non la vide più. Fu il rabondo per l'Italia del tempo messa a sacco da queste truppe di stati nostri ma anche stranieri che continuamente erano in guerra e sviluppò un rapporto con la realtà un po' problematico, anzi alquanto problematico. Nella sua poesia ovviamente troviamo il segno di questa psicologia particolare fin dagli esordi. Gli esordi del Tasso comprendono una serie di opere, qui nella slide vedete dal Gerusalemme al Rinaldo, sono le prove, diciamo così, del poema epico che poi sarà la Gerusalemme liberata. La Gerusalemme, in genere si dice il Gerusalemme, è un breve poema un breve poema in cui questo impeto epico è già realizzato, pensate che in Boiardo c'è ancora uno spirito epico anche se coniugato con il romanzesco, ma per esempio in Ariosto certamente non si può parlare di Epos. Nella Gerusalemme Tasso tende a restaurare un po' lo spirito dei grandi poemi epici anche dell'antichità, tipo Liliade per esempio, il Rinaldo invece più romanzesco, è come se Tasso avesse scisso questi due aspetti che invece nel Boiardo erano fusi felicemente fra di loro, ma gli esordi del Tasso contano altre espressioni artistiche, per esempio il Tasso fu un prodigioso scrittore di Madrigali, sono dei piccoli componimenti, che venivano musicati e cantati e quindi la prima forma del connubio fra musica e poesia che poi darà il dramma per opera, il melodramma, quello che nell'Ottocento verrà chiamato il melodramma. Alcuni di questi Madrigali sono di una bellezza quasi struggente e sono dominati sempre da una malinconia lunare, sono in genere spesso dei notturni con dei momenti di grandissima dolcezza che poi si rovesciano facilmente in mestizia. Ma il capolavoro, primo capolavoro del Tasso, eccolo qua, il sogno pastorale della Minta, è questo dramma pastorale, ovvero ambientato fra i pastori, Aminta il protagonista, è un pastore, che il Tasso concepì e diede vita a un genere che poi avrà una lunga vita nella letteratura italiana, soprattutto nel periodo dell'Arcadia che è verso la fine del 600, concepì riprendendo ovviamente dei temi dell'antichità classica. Dopo il fervore di studi umanistici, il ritrovamento dei testi dell'antichità che i medioevali non potevano leggere perché non riuscivano più a trovarli, non sapevano dove fossero, i poeti italiani del 400 e del 500 hanno tutti una formazione classica più completa, più ricca di quelli del medioevo e chiaramente Tasso può attingere a Teocrito, che è un po' il grande poeta greco dell'idiglio pastorale e soprattutto a Virgilio, veramente anche nel medioevo era possibile, ma qui c'è anche il corrispondente greco, ovvero alle bucoliche. Questo poema, questo scusate, questo dramma pastorale è la storia di un amore infelice, di Amita per una ninfa, però poi c'è una soluzione, diciamo così positiva, finisce bene, sotto le vesti di pastori e di ninfe sono riconoscibili personaggi della corte ferrarese, Tasso fa una specie di raffinata mascherata e anche se si parla di pastori, di ninfe eccetera, in realtà dietro questi personaggi c'è sempre qualcuno della corte. È un sogno di vita naturale, una specie di età dell'oro restaurata in letteratura quando non sia possibile restaurarla nella vita, c'è un coro bellissimo, estremamente malinconico o bella età dell'oro, qualcosa che è esistito in un tempo remotissimo ma che non è possibile più restaurare se non nel sogno nostalgico. L'età dell'oro è l'età dell'amore libero, del naturalismo, del vivere la vita senza estreme complicazioni ed è un sogno di felicità che però si ritiene inattingibile. In un certo senso fa Capolino in questo dramma pastorale un'intonazione che sarà dopo tipica del romanticismo tedesco e che avrà anche dei riflessi sul neoclassicismo italiano, per esempio il foscolo, quell'atteggiamento verso la realtà dell'anima romantica che i romantici battezzarono con un termine tedesco non bene traducibile in italiano che è Sehnsucht, che sarebbe una sorta di nostalgia verso un tempo del passato desiderato ma nella coscienza malinconica che è trascorso per sempre e non potrà più essere restaurato se non nei sogni del presente. Non so se vi ho ben dato la traduzione ma non esiste un'espressione italiana che possa tradurre questo comodo termine perché quando si dice Sehnsucht si intende questo. Questo sogno pastorale fu molto apprezzato dalla letteratura del tempo e anche ebbe delle valutazioni di grande positività dai poeti ancora addirittura dell'Ottocento e anche una critica moderna, resta uno dei due capolavori del Tasso. La Minta, il capolavoro giovanile e poi la Gerusalemme liberata. Il Carducci che amava moltissimo la Minta la definì un portento e in effetti è una delle cose più belle della nostra letteratura e questo sogno pastorale poi viene a complicarsi da una intenzione di grande letteratura e grande letteratura vuol dire anche grandi temi. La preparazione della Gerusalemme liberata, qui vedete definita il poema delle discontinuità, è piuttosto complessa. Bisogna dire che in questo momento particolare della storia del Cinquecento italiano i pedanti, che non mancano mai in tutte le epoche, tendono un po' a prevalere sugli ingegni dotati di una naturale forza creativa e c'è tutta una discussione in margine alla poetica di Aristotele su come debba essere fatto un poema. Ora in realtà Aristotele nella poetica parla della tragedia e dice che la tragedia normalmente rispetta delle regole, non dice deve rispettare, dice rispetta delle regole. Poi in realtà questa forma di, come si dice, di presa d'atto di Aristotele è stata scambiata per un'imposizione, il che non è mai stato, ma questo è un altro discorso che poi sarà molto importante nel romanticismo. La tragedia doveva rispettare la regola l'unità di azione, l'unità di tempo e l'unità di luogo, cioè ci deve essere un'azione che non divaga mai, è sempre sul filo di se stessa, unità di tempo si deve svolgere in 24 ore, pensate, unità di luogo, non si può mai cambiare la scena. Naturalmente queste regole furono un po' esportate anche alle opere di tipo narrativo, ma naturalmente quando si parla di un'opera narrativa e nel caso specifico di un poema, non si può pretendere un'unità di luogo, non è che un poema si può svolgere sempre nello stesso luogo, e meno che mai si può pensare che un poema si possa svolgere in 24 ore, intendiamoci, nei tempi moderni c'è chi ha scritto delle opere che si svolgono in meno di 24 ore, pensate all'Ulisse di Joyce, ma la Gerusalemme liberata di tasso ha un arco di svolgimento che conta anni e quindi naturalmente l'unica delle regole aristoteliche che si poteva discutere su come applicare nel poema epico era proprio quella dell'unità d'azione. Tasso nei discorsi sul poema eroico, che sono un po' la sua poetica, dice delle cose che io vi riassumo rapidamente e che sono molto ragionevoli se volete. Quali sono queste cose? Dunque innanzitutto dice che l'argomento del poema deve essere storico, quindi qui c'è una bella botta possiamo dire a Lariosto, che è un po' il mostro sacro a cui Tasso reagisce con grande rispetto. Storico vuol dire deve raccontare delle cose veramente accadute, l'argomento è storico e infatti il tema della Gerusalemme liberata è la prima crociata e i personaggi, perlomeno i personaggi fondamentali di questo poema sono storici, basta pensare a Goffredo di Buglione, il grande capo dell'esercito cristiano. Ma deve essere situata, dice Tasso, questo argomento, non troppo lontano nel tempo, ma neanche non troppo vicino. Non troppo lontano perché la storicità di qualcosa che è avvenuto nella notte dei tempi è tutta da vedere, è quasi impossibile, ma non troppo vicino perché se è troppo vicino c'è un eccesso di storicità. Bisogna trovare il giusto mezzo fra ciò che è realmente accaduto, ma non è così articolato nel ricordo di coloro che vengono dopo da non poter lasciare un po' di spazio alla fantasia. Quindi il vero deve arricchirsi di una dose più o meno cospicua di verosimile in cui il poeta dà libero estro alla sua fantasia. Un'altra cosa a cui tiene il tasso è che lo stile sia molto elevato. Molto elevato perché deve essere molto elevato questo stile? Perché qui si sta parlando della restaurazione del poema epico. Perché si vuole restaurare il poema epico? Quando avevamo detto che nel Rinascimento il mondo dei cavalieri antichi è guardato con quel sorriso misterioso e straordinario di Ariosto, in cui c'è un grammo di ironia, ma c'è soprattutto uno splendido humor e anche un po' di nostalgia. Ma perché in questo momento la Chiesa Cattolica si sta armando, anzi è già in armi, per reagire alla riforma protestante. C'è un'altra grande minaccia che viene addirittura a tutta la comunità cristiana, che è l'avanzata, che sembra inarrestabile, dei turchi, i quali stanno andando abbastanza fuori dai propri confini asiatici e stanno dilagando in Europa. Questa avanzata dei turchi fu provvisoriamente, anche se poi in fondo definitivamente fermata, nella battaglia di Lepanto, in cui le grandi potenze marinari d'Europa e prima di tutto Venezia, proprio armarono un'armata navale che sconfisse la flotta turca. Ma in realtà i turchi continuarono anche dopo, arrivarono fino a Vienna nel 600 e furono i re di Ungheria, di Polonia, insomma a soccorrere i viennesi e a fermare a quel punto definitivamente questa avanzata, che poi non sarà più un'avanzata, ma una retrocessione, perché comincerà lì il declino dell'impero turco. Ma quindi questo poema risponde a qualcosa che non veniva per niente richiesto, ad esempio nel primo 500 o anche nel 400, a una forma di, uso una parola francese che vi traduco subito, engagement dell'intellettuale, ovvero di impegno, di impegno ideologico. Non esiste poeta più disimpegnato dell'Ariosto, ma ora le coscienze vengono più controllate dopo la riforma e si pensa che quando un poeta scrive, a meno che non scriva di temi amorosi madrigaleschi, è anche giusto che ci sia un messaggio da offrire al lettore. La Gerusalemme liberata nel suo impianto generale tende a restaurare una forma di autentico epos, che è però questa volta cristiano e diventa il grande poema della cristianità minacciata. La scelta del tema è significativa, però ho già detto, si tratta della prima crociata. ecco i nostri temi, i temi della Gerusalemme, l'ideologia del poema, temi e personaggi, stile della Gerusalemme, la crisi del rinascimento. Allora, l'ideologia del poema, ne stiamo parlando adesso, questo poema tende a glorificare la cristianità e a costruire un grande sistema di implicazioni che hanno come riferimento appunto la necessità e la giustizia del trionfo della cristianità. Quindi, l'argomento è la prima crociata, abbiamo già detto. C'è il ricorso a un meraviglioso che nei poemi antichi era il mondo mitologico greco, ma ora invece c'è una mitologia cristiana. Questo poi sarà ripreso da Milton nella serie dei paradisi, paradiso perduto, conquistato. Cosa vuol dire mitologia cristiana? Vuol dire che come accade nella Iliade, in cui gli dei si arruolano nella guerra di Troia e partecipano, in parte per i greci, in parte per i troiani, naturalmente gli dei che parteggiano per i troiani saranno gli dei sconfitti, mentre quelli per i greci saranno quelli vincitori. Quindi il tasso trasla questa divisione delle potenze, diciamo, divine, anche nel suo universo che ovviamente non conta degli dei, ma conta l'unico Dio e fa sì che le armi cristiane siano vigilate e sostenute da Dio stesso e invece le armi islamiche, che sono considerate diaboliche dal tasso, abbiano l'apporto delle potenze infernali, ovvero di Lucifero. Poi non ci sono dei, ma ci sono delle potenze celesti, gli arcangeli, gli angeli, i vari diavoli, per cui insomma abbiamo una sorta di iliade cristiana in cui l'aldilà, il cielo e però anche l'inferno, si armano per partecipare a questo grande scontro che dura molti anni, esattamente come la guerra di Troia. Come sono sistemate le armate cristiane che partecipano? Come vi accennavo poco prima, hanno un capo, un generale in capo che è Goffredo di Buglione che è ricalcato sulla figura di Enea, pensate un po', ovviamente, non dirò Agamennone che è il capo supremo, il grande re che guida le armate greche nella guerra di Troia, ma proprio sulla figura di Enea. Goffredo di Buglione ha di Enea la saggezza, la necessità di limitare sempre se stesso in funzione di quello che lui rappresenta come comandante, ma non solo come comandante, ma come rappresentante di Cristo sulla terra in un certo senso e ha anche le malinconie di Enea. Questo per rispondere a qualche forse frettolosa lettura del poema in cui si è detto che tutto sommato Goffredo di Buglione è un personaggio abbastanza sbiadito, non è vero affatto che sia un personaggio sbiadito, è un personaggio piuttosto complesso. Il grande eroe della cristianità, l'eroe quasi invincibile, anzi diciamo pure invincibile, chi sarà? È Rinaldo, Rinaldo è un cavaliere che compare in vari poemi prima del tasso e anche nel tasso giovanile. Qui Rinaldo ha la funzione di Achille. Abbiamo anche altri combattenti, per esempio Solimano, che è uno dei più forti eroi dell'altra parte. Abbiamo delle donne, abbiamo delle donne, abbiamo Ermigna, che ha un'anima tenera e sfumata e trepida, in cui si rispecchia qualcosa della femminilità del tasso, femminilità fra virgolette, cioè della sua sensibilità particolare. Abbiamo una vergine guerriera, Clorinda, anche qui i modelli sono della classicità e anche dell'Ariosto. E poi abbiamo una circe, diciamo così, palestinese che è la Armida, la maga che muove le potenze dell'inferno e fa i sortilegi che a un certo punto anche incatenano in un luogo di delizie che sono i giardini di Ermida, anche l'eroe della cristianità, Rinaldo, senza il quale i cristiani non possono vincere. È la stessa storia dell'Iliade, in cui Achille produce quasi il crollo delle armate greche quando si ritira dalla guerra per un dissidio con Agamennone e poi tornando al combattimento produce praticamente la ripresa delle fortune greche. Ho detto Circe, Circe l'Odissea, ma infatti c'è in questo poema che è ricalcato in parte sull'Iliade e in parte anche sull'Eneide, c'è una parte che ha a che fare con questa maga in cui ci sono dei viaggi in nave per andare alle isole, fatate, eccetera, che è un po' riprende la tematica dell'Odissea. Questo è l'impianto fondamentale. Come sono questi personaggi? Ma la Gerusalemme liberata è un poema di vincitori e di vinti, vingono i cristiani e perdono i musulmani, ma a livello individuale tutti i personaggi della Gerusalemme liberata sono dei perdenti. C'è una malinconia struggente che pervade le sorti individuali di ciascuno. Addirittura qualcuno ha fatto una specie di formula matematica molto banale, per cui nella logica dell'amore che riguarda il privato di questi personaggi, ma una delle cose più forti della Gerusalemme liberata e quindi ci sarebbe un impianto epico che però è, per dire così, penetrato da temi che certamente epici non sono, ma se mai cavallerischi, nella logica dell'amore c'è una specie di equazione, un'equazione fondamentale. A ama B, che ama C, che ama D, che ama E, che ama F. Cioè in pratica nessuno ama la persona giusta, tutti i personaggi della Gerusalemme sono degli infelici. Infelice supremo, almeno nella fase culminante del poema, è Tancredi, altro grande eroe della cristianità, a cui tocca l'avventura di uccidere in un combattimento meravigliosamente rappresentato dal Tasso, la persona che lui ama di più nella vita. Chi è questa persona? È la Clorinda, la vergine musulmana, forte come un uomo, che però veste armi diverse dal solito, quindi Tancredi non la riconosce, che combatte valorosamente con Tancredi e che a un certo punto viene uccisa. Lì la partecipazione del Tasso è di una intensità quasi insostenibile, perché in quel combattimento si sta svolgendo qualcosa che riguarda anche la sua anima. Senza indulgere troppo a schemi psicologici, forse quella vergine, quella donna, catafratta, vestita da uomo, è un'immagine del profondo del Tasso stesso. Stile della Gerusalemme, ma Tasso aveva concepito un poema estremamente ricco e ampolloso, alto anche nello stile, e infatti lo stile della Gerusalemme è quanto, da questo punto di vista, quanto di più elaborato è stato prodotto nel Rinascimento italiano. Non c'è la sublime Medietas dell'Ariosto, il Tasso indulge a forme retoriche abbastanza complicate, qualche volta si mette a gareggiare con la musica e quindi orchestrine di parole che vengono fatte per di così reagire proprio nel loro elemento musicale. Ci sono dei momenti in cui il Tasso addirittura dipinge dei meravigliosi quadri di stile manierista, ma lo fa con le parole. Ecco, si sta annunciando qualcosa che poi nell'Ottocento, nella poesia simbolista, sarà dominante nella poesia europea. Ma questa tendenza a vedere nel Tasso, sia pure poeta del tardo Rinascimento, una sorta di annunciatore di qualcosa che verrà molto dopo, diciamo che è abbastanza diffusa nei lettori, nei critici del Tasso stesso. Cominciò uno dicendo che praticamente, idealmente il romanticismo comincerebbe da Tasso. È una prospettiva assolutamente non storica, però se non teniamo troppo alla storicità c'è qualcosa di vero in tutto questo. Ma se volete anche le orchestrazioni della parola, tipiche del decadentismo europeo, i cui riflessi italiani sono in Pascoli e in D'Annunzio, ma qualcosa già in Carducci, queste orchestrazioni sono già tassiane e quindi si tratta anche di un poeta che dà un avvenire, un avvenire che verrà a pieno frutto addirittura secoli dopo. Senza dire che il barocco in gran parte, o almeno la fase manieristica che pare, pare, perché anche qui ci sarebbe da discutere, sia il momento che precede e che nutre il barocco, è già pienamente rappresentato nel Tasso. La crisi del Rinascimento viene da sé, viene da sé, questo poema in cui ci sono più inadempienze, in cui chi vince in realtà perde e chi perde perde ancora di più, in cui le psicologie sono profonde, sfumate, a differenza delle psicologie ariostesche che invece sono appena accennate perché non è psicologico l'interesse dell'Ariosto, ma è questo meraviglioso complesso di funzioni in cui i personaggi hanno più che un valore individuale, un valore corale, concorrono all'effetto complessivo, invece nel Tasso c'è questa individualità sentita come una lama anche profonda, un momento di dolorosa individualità. Eccoci qua, siamo al secolo nuovo, il Seicento è la poesia marinista, il Seicento, esistono dei luoghi comuni su Seicento, sapete che nei luoghi comuni qualcosa di vero magari c'è sempre, però non tutto è vero nei luoghi comuni. Allora, il Seicento è stata un'epoca molto sfortunata dal punto di vista dei critici della nostra letteratura e degli storici, è stata considerata praticamente il secolo senza poesia, il secolo delle deformazioni, delle esagerazioni. Il gusto barocco di cui oggi riconosciamo la potenza espressiva e naturalmente anche la grandezza, quanto di grandezza si tratta, fu definito addirittura da Benedetto Croce, che è un po' il grande sistematore della letteratura italiana dopo il De Santis, praticamente un'espressione del cattivo gusto e basta. Barocco uguale cattivo gusto. Quindi, con questa premessa, tutto quello che sarebbe stato fatto nel Seicento sarebbe stato un momento di espressione del cattivo gusto. Che vuol dire poesia marinista? Lo sapete, poesia marinista è un'espressione che ha a che fare con tanti poeti del Seicento che viene dal grande poeta, diciamo oggi, che non fu considerato però sempre grande, mentre fu considerato grandissimo nel suo tempo, che è Giambattista Marino. I caratteri del nuovo secolo, rapidamente, il Seicento viene dopo la grande fioritura culturale del Rinascimento, è un momento particolare, ci sono delle cose che decadono, per esempio decade la grandezza dell'Italia, la grandezza storica, politica, economica dell'Italia, l'Italia non è più quella dei comuni e meno che mai quello dei principati del Cinquecento, ma è anche un'epoca di scoperte nuove in cui i paradigmi di interpretazione del mondo vengono trasformati alla logica e alla filosofia aristotelica e anche al cosmo aristotelico si sostituisce quello che è praticamente il nostro mondo. La logica del Seicento è una logica sperimentale, si scoprono delle cose che prima non esistevano, che vi posso dire la circolazione del sangue, quindi la medicina comincia a fare dei progressi straordinari, l'ottica, il cannocchiale, il microscopio, i grandi viaggi attraverso il mondo, le esplorazioni nell'Asia, nell'Africa, che poi culmineranno nel Settecento con la scoperta addirittura dell'Australia, insomma si tratta di un secolo che ha dei caratteri di grande importanza, non lo si può ridurre a un secolo di decadenza. È dominato dal gusto barocco, almeno per i due terzi di se stesso, ma il barocco è un po' l'anima del Seicento, nel barocco c'è un elemento mobile, scenografico ma anche cangiante, che un po' esprime la concezione della realtà che hanno gli uomini di questo senso. Marino e marinisti, il Parnaso in rivolta è il titolo di un libro scritto nel secolo appena trascorso, nel Novecento, che dà veramente molto bene l'idea della nuova poesia secentesca. Quali sono i caratteri della poesia del marino e soprattutto dei marinisti? Beh, intanto c'è un ampliamento straordinario dei temi, la poesia italiana, quella lirica, fino a questo momento è soprattutto una poesia d'amore e diciamo che questa poesia d'amore è articolata su uno schema che è prima stilnovista e poi petrarchesco, una donna quasi irraggiungibile, anzi irraggiungibile, una sorta di idea e un uomo, il poeta, che lui in realtà è il protagonista, perlomeno i moti della sua anima sono i protagonisti della poesia. Qui invece le cose cambiano moltissimo, la poesia trova temi nuovi, viene per dir così, contagiata in senso positivo dalle nuove scoperte, delle ricerche, quindi abbiamo una visione della natura che si vede in questa poesia, dei movimenti delle acque, delle nuvole, dei paesaggi che non esisteva prima nella poesia lirica e qui viene quasi rilasciato un lascia passare a quella che sarà poi soprattutto la poesia dell'Ottocento e anche del primo Novecento italiano. Per esempio la figura della donna, la donna nel Seicento è una protagonista della poesia, non è soltanto un'immagine che sta lì e che serve semplicemente da stimolo di quella che è la psicologia d'amore del poeta, esistono delle donne nuotatrici, delle donne capaci di lavori raffinatissimi, delle donne addirittura che vanno a cavallo, delle donne che vediamo sull'altalena, delle donne che fanno degli sport e questa è un'assoluta novità. Addirittura si rovescia il rapporto amoroso, siamo qualche volta all'interno della psiche amorosa della donna e dell'uomo il punto di riferimento, ma immobile come era stato prima il contrario nella poesia precedente, quella di gusto stilnovistico petrarchesco. Poi ci sono dei momenti di un felicissimo humor, ci sono delle poesie che hanno degli strani titoli e strani contenuti, per esempio la bella nana, il Seicento è interessato a tutte le epifanie della realtà e ecco che compaiono delle poesie in cui la protagonista è una nana affascinante. Ci sono alcune che sembrano addirittura ripilanti al nostro gusto moderno, ma che poi vengono svolti con un senso di umoro straordinario, ve lo dico, la bella pidocchiosa, pensate che tema, in cui però i pidocchi sono delle fere d'avorio che, per dire così, si muovono nell'oro, guardate che diciamo che è raffinatezza e quindi abbiamo oro forbito e perle di Petrarca, però svolto in questo senso assolutamente rivoluzionario. Qual è il motore stilistico di questa poesia? Il motore stilistico di questa poesia è la metafora. Che cos'è la metafora? La metafora, per dire così, un paragone contratto. Se io dico i prati sono bagnati di pioggia e quindi rispecchiano la luce del sole e assomigliano al viso di una fanciulla luminoso o addirittura dopo un pianto salutare, vedete quanto la faccio lunga? Ho creato un'analogia. Cosa fanno i poeti barocchi? I prati ridono, usano la parola ridere, il verbo ridere che non potrebbe avere logicamente un soggetto inanimato, ma che implica tutto questo veloce passaggio. Integgiamoci, la metafora c'è sempre stata. Prata ridente è una metafora di Virgilio, l'ho usata apposta, ma nessuno ha fatto di questo strumento retorico che è sempre assistito nella poesia greca, latina e anche italiana del medioevo, del primo cinquecento, del secondo novecento, questo prodigioso motore di associazioni, di scoperte, questa sorta di esploratore della realtà che è per l'appunto la metafora nella poesia barocca. Certo, qualche volta ci sono degli eccessi metaforici, ma sul piano del gusto, se sono giuste certe riserve che vengono fatte successivamente, dobbiamo anche dire che ci sono dei momenti addirittura straordinari. C'è il famoso elogio della rosa fatto dal Marino, che è uno dei passi più intensi della poesia italiana in assoluto, in cui Marino addirittura dalla parola rosa crea delle associazioni, questa parola si scinde nei suoi componenti fonici e musicali e ne viene un contesto veramente prodigioso, in cui sembra che le varie arti si diano la mano e creino una collaborazione estremamente positiva nei risultati per creare una specie di opera d'arte totale. Cos'è questa opera d'arte totale? È un'espressione che mi sto inventando io? No, è la traduzione di una parola tedesca, sapete quelle parole tedesche lunghissime, composte, che fu usata da Wagner, ma se parliamo di Wagner siamo già nella metà dell'Ottocento, per esprimere la grande ambizione di questo piccolo uomo, perché era molto piccolo di statura, ma che aveva dei sogni straordinari che poi si realizzarono naturalmente, quella di fare una forma d'arte a cui tutte le arti in qualche maniera collaborassero e ritrovassero una sorta di unità perduta originaria. Qual è questa parola tedesca? Gesangkuchtwerk, traduzione opera d'arte totale. È un'opera d'arte in cui la musica si coniuga con la parola, ma la parola ha anche un elemento scenografico e figurativo e quindi abbiamo un'opera d'arte in cui sembra che tutte le arti collaborino proprio per produrre un effetto estetico centuplicato. C'è un germe di tutto questo nella poesia di Marino e dei marinisti e quindi possiamo dire che questa poesia nel suo bene e anche nel suo meno buono o addirittura nel suo male è però un momento veramente fondamentale dello sviluppo non solo della poesia italiana e della poesia europea, ma anche della poesia europea. Questo spiega anche il suo grande successo internazionale. Naturalmente il marinismo si spande per tutta l'Europa e in altre civiltà si producono anche dei risultati straordinari con questi mezzi artistici e con questa visione dell'opera d'arte. Ma ripeto, se possibile, ancora più importante è quello che viene seminato dalla poesia barocca e di cui vedremo il frutto in tempi abbastanza recenti e tali, diciamo, di far gridare a una novità strepitosa che forse sotto certi aspetti una precisa, completa novità in un certo senso non era. C'è qualcosa di marinista anche in Pascoli, Pascoli che congiunge il microcosmo col macrocosmo e che fa della parola una fonte viva, quasi una vena pulsante di un grande organismo della realtà che produce delle meravigliose epifanie a cui Pascoli delega addirittura l'occhio di un ideale fanciullino, un pure eternus che vede tutte le cose come per la prima volta e che crea le associazioni più impensate e fa delle meravigliose scoperte in questo meraviglioso spettacolo che è il mondo. I barotti, i uomini di questa civiltà, i marinisti, hanno già questa idea scenografica della realtà, teatrale se volete, ma di un teatro vitale, non di un teatro morto naturalmente. Vi ringrazio per il vostro ascolto e tutti gli spunti che avete colto o che coglierete in questa lezione li potete verificare e anche sviluppare al solito modo, cioè collegandovi nel web con i nostri siti. Grazie.